Ciao ragazzi, io sono Cerofisis e oggi, dopo 2.000 anni, finalmente andiamo nel Junjom. Ah! Quindi andiamo subitissima alle super ragazze. Ossidiana, non mi uccidere! Che dici? Perché si stanno ammazzando questi due stupidi? No, poi soffochi, poi soffochi, ed è un problema tuo. Le torce! Un minotauro! Levate! Levate! Cosa pensi di fare, Filippo, senza torce? Ma sta morendo! Guarda sto stupido! È morto! Ma che cretini! Vieni qua, dai, adesso mori questo qui. Dai! Levati! Via! Allora, stai qui! Io vado a prendere le torce, ci vediamo fra poco. Ragazzi, per fortuna ci siamo fatti la fornace di riserva. No, veramente è stato un errore tecnico, però, meno male. Allora, mettiamo un po' di cose qui. Ragazzi, abbiamo trovato la luciola, è una roba epica. Tu la metti a terra e fa luce. Guarda com'è la luciola. Costituisce cosa? Le torce. Quindi ti serve? No, la lascio lì. La lascio per vederla. Ok. Ecco qua, le torce. Ma per sicurezza, guarda, mi prende anche la luciola. Una torcia in più non fa mai male. Sì. Aspetta, magari tiriamo un pochino qua. Guarda là quante ce ne sono. Andiamo a prendere anche un po' di quelle, va? Finalmente siamo pronti per partire. Verso il mondo super emo. Pensavi morissi, eh? Ma no, ma no, ma no. Ok, blocchito X. Mini blocchito. Procediamo. Allora, esploriamo un po' la zona. C'eravamo già venuti il tempo, mu? 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 Tanto ce ne sono le torce, vedo. Sì, questi sono quelli che ho già messo in un tempo. Lontano. E mu? Creeper! Ok. Ma a me è come labirintoso sto posto. Che è qualcosa? Aiuto! 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 Vai, ammazzalo! Aiuto! Vai, ammazzalo un cavolo! L'hanno ammazzato loro! Aiuto! Salvami, blocchito! Ma quanti ce ne è? Quanti ce ne è? Non ce ne hanno spawn di questi cosi qua? Mi sa anche più di uno. No, caspita, cibo, 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 non c'ho cibo. Ok. Però ho blocchito. Hai fatto qualcosa? Se ci si potesse... No, non sei neanche sa che c'è di livello. Bravissimo, proprio. Complimenti. Qua è esplosito qualcosa. Uh, brutto! Mi ha... Cos'è quella roba? Aiuto, aiuto, aiuto! Esperienza? No, sono delle slime gold strane. Ancora. Madge slime, si chiama. Ah, non ci si vede più nulla adesso. Oh, oh, oh! Aiuto! Blocchito, aiutami! Sono tantissimi! No, scusa! Sono praticamente uguali. Ha fatto tiri, 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 tiri. Blocchito, vai, ammazzali, ammazzali. Tutti, tutti, bravo. Complimenti. Benissimo, abbiamo pure un tesino di slime gold. Che non so cosa ci passano... Oh! Ammazzalo. Bravo. Siete di livello? Sì? No! Aiuto! Un caso mi ha preso! Un caso mi ha preso! Liberami! Liberami! Grazie proprio, eh. E tu smettila di saltellare! Oh, una cesta! Cosa ci sarà dentro? Boh. Una verga di blades! Delle lucce lì? Niente di questo. E qualcos'altro. Niente di interessante. Niente di questo. Charm of caping. Cos'è? Un torchberry. Cosa sono i torchberry? Ma chi dire torciberry? Prova a posizionare. Addio polvere da spano. Addio questo, addio questo e... Basta. Direi che il resto del coso non ritengo qua. Non alzupo i funghi. Ok. Pipizzullo. Ok, sto andando da qualche parte. E tu non mi devi seguire! Oh, se lo dà! Vai, brocchito! No, non lo colpisce, brocchito. Vabbè. Uh! Qualcosa che procede ancora più in basso. me lo devo ricordare. Bravo, blocchito. Mi sa che sei lì tu di giù. Bravissimo. Oh. No. Sei due. Ah, sì. Però ora svegliati, alzati. E cammini. Quanto li odio quelli ti prendono. No, questi sono diversi. No. Questo sputa fuoco. Girati. Un'altra cesta. Un attimo che devo ammazzare sto impertinente. Ok, che mi fa male. Aiuto di nuovo, mi ha preso. Ammazza qualcuno invece di... Aiuto, quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Aiuto. Aiuto. No, la cesta. È la cesta, aspetta un attimo. Guarda quanti cosi! Ok, brocchito mi sa che ha fatto una brutta fine. No, secondo me ancora è vero. Dici? Blocchito, mini brocchito. Eccolo! Sorge come un eroe. Non ha perso niente, però aiutami. Ok, vai a vedere cosa c'è. Eh, iuto! Miei, che schifo quando li odio, quando ci sono tutti quell'eroe. Ok. Procediamo. Sento ancora lì. Plec plec. Plec plec. No, ancora! Uffa. Non rompere. Non rompere. Non si rompe. Non si rompe. Non si fa. Vai, brocchito, ma salita. Ehm, un'altra cesta. Sento tanti minotauri. Metto un po' di torce qua e là. Bah! Quanti? Oh, oh, oh! Un ragno! Aiuto! Aiuto! Ai! Ai! Quanti sono? È che non voglio colpire il blocchito, eh! Sto qui che grosso! Vai, grande! Quanta vita adesso? 25. Prima era 20. Uccidi! Ok. Possiamo prendere la cesta. Carta. Mela d'oro. Vaso. Mela d'oro. Canale a zucchero. Non faccio niente da canale a zucchero. Carbone ti serve, però. Sì! Ai! Au! Maledetto stolto! Ma cosa? Daia! Ok. Sbam! Bam! 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 Oh, diù! Si stanno baciando! Aiuto! Si sparano vicino! Guarda che si ammazzano adesso! Aiuto! Aiuto! Ah! Mori! Guardate la sua ascia! Mori! 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 Aiuto! Ok. Tutti morti. Cosa voglio fare con queste cose? Bocchitto no! È morto! Bocchitto no! Bocchitto no! Non con quello in casa! Io con spacco! No! Ah! È vivo! No! Ed è pure di livello 3! Potente! Lui fa tutto in silenzio! Eh! Hai capito ragazzo! Ok! Non di qua! Ma di qua! Segui Bocchitto! Seguimi! E diventa uno! Oh! Qua c'è qualcosa che non avevo visto! Un'altra cesta! Abbio sbarre! Prendiamo la zuppa di funghetti! No! Occupano troppo spazio! Tanto di cibo ce l'ho! Ferro! Non mi interessa! Questo sì! Questo anche! E basta! Non frega niente di altro! Quella laggiù? Ah! Non so di qua! Dove? Laggiù in fondo! Ah! Niente! Aspetta! Di qua! Oh! No! Brutto! Brutto! Ok! Brava! Procediamo di qua che... No! Non di qua! Laggiù in fondo non c'era qualcosa! Vedo una grande stanza là! Dove c'è il coso... Aran... Strano! Ah! Ma qua è da dove siamo arrivati! Ah! Non puoi cambiare direzione! Andare in tutto! Ok! Direi che possiamo procedere! Andare al piano di sotto! Ok! Sto pazzo di ritrovarlo! Salve! Salve! Salve signori! Faccio tutto schifo! Oddio! Un'altra cosa! Un'altra cosa! Aiuto! Aiuto! Shift per montare! Aiuto! Aiuto! Ma quanti ce n'è? Aiuto! Sono fortissimi! Mori! 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 Ok! Blochito! Pratemi un attimo! Che mangio! Altre torce! Aiuto! 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 Se mi ammazzo! Sono morto! Ok! Oh! Un attimo! Un attimo! Dov'è blocchito? Oh! Un tizio che vuole lì! Oh no! Dove è che spito è andato blocchito? Oddio! Oh! Un tizio! Ho visto! Ho visto un tizio! Anch'io! Non esco per trovare il piano di sotto adesso! Blochito è sparito! Mamma mia! Forse viaggiare con la spada in mano sarebbe stato molto meglio! Vai Blochito! Facci vedere chi... Ah! Uno! 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 No! 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 Corri! 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 No! Mori! Oh mamma mia! Oh caspita! Sei di livello 5! Si evolve? Te lo dico! No! Si evolve solo si gli do in una mera dorata! Ma è vero giusto! Uh! Una sala delle ceste! Wow! No! Questa sala qui è orribile! Perché? Non dobbiamo giocitare questo perché ci sono degli spawner nascosti! Ecco appunto! Vedi che arrivano questi qui! Eccolo lì! Lo spawner! Ma se ci metti le torce non spawnano più! Si spawnano comunque questi qui! Questi qui non vi ho impiegato niente se c'è la luce o no! No! Quindi come fai a prendere le cose nelle ceste? Non passano delle fuoco! Non passano delle fuoco! Ah! Aiuto! No! No! Vai nell'acqua! No! No! Sì! Abbiamo ritrovato tutto! Tutto! Il blocchito è sparito ragazzi! Dì! Sì! Mi mancherà! Mi sa che l'ho ucciso io perché stavolta davvero ero così pieno di monstri che ho tirato spalata a caso! Ok! Tolgo! No! M! Punti! Elimina! Elimina! Ok! Allora! Mamma mia! Ok! L'armatura mi è rimasta in automatico non so perché! Ok! Allora prendiamo il piccone! E proviamo a prendere qualcosa! Via! Ora! Ora! Velocemente! Velocemente! Spacca! 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 Spaccato! Spaccato! Vediamo le cose inutili come questo! Questo! Aspetta! No! L'osso mi serve! Prendilo! Il ferro! Questo! No! Il ferro c'è un casino! Questo non so cosa sia quindi lo prendo! La pozione cos'è? Ah! La pozione di originazione! Ma questo è più o meno come un coso di diamante? No! È un po' meno! Allora lo lascio lì! Non me lo faccio! Dai Filippo muoviti! Aspetta un attimo! Prendi quella di originazione! La pozione la prendo! Questo qui pure! Questo qui pure perché sono torce! Dai Filippo! E procediamo! Lì non c'era niente quindi andiamo al prossimo! TNT! Uh! Hero Wood! Non so cosa sia! Questo invece è un nostro affleff! La prendi a TNT? Sì! C'è la TNT! Aspetta! Ci metto delle cose inutili come questo! Tanto lì non ti serve niente! La pelle... Boh! Dai questo! Via! Le uova me le tengo perché devo fare l'allevamento di poli e magari mi nasco! Hai preso già tutto? Sì! Beh! Continueremo nel prossimo episodio!